Gli spezzoni di video che seguono sono solo alcuni dei milioni di video che sono stati girati dagli oltre 25 milioni di liberi ricercatori nel mondo e che chiunque è in grado di arreplicare. L'indottrinamento subito vi blocca dal poter approfondire la realtà del meraviglioso regno piano che ci ospita e scartare a priori l'accesso alla verità quando invece con semplici calcoli trigonometrici la verità è sempre davanti ai nostri occhi. A disposizione avete l'incredibile indice alfabetico dove in primo piano ci sono i video più intriganti a cui si accede dal sito web www.tinelli.eu e le innumerevoli playlist fra cui, sempre con questo argomento Curvatura ed orizzonte e Prospettiva perché non vedo fino in America. In formato gratuito attraverso la home del sito tinelli.eu potete sfogliare il libro Il Risveglio oppure acquistato attraverso il link che trovate nella descrizione. Attenzione! Solo il formato elettronico è a colori quello cartaceo è solo in bianco e nero. Questo video si basa sulle fantastiche osservazioni fatte dal ricercatore Observable Reality. Il suo punto di osservazione è dalla diga Wanapum nello stato del Washington. Le osservazioni che vedremo sono state fatte da due località. In tutte e due le riprese la fotocamera era posizionata molto bassa sull'acqua e vedremo molto chiaramente le prove dove dimostrano che il modello accettato del globo è assolutamente falso. Nella mappa che si vede trovate le coordinate di ambedue le posizioni. Come potete vedere dal suo video la fotocamera è esattamente sopra l'acqua. L'obiettivo è appena a 18 centimetri sopra l'acqua e a questa altezza la distanza massima dell'orizzonte dovrebbe essere solo di 1,514 metri secondo i calcoli del modello del globo. Vediamolo insieme. La distanza massima dell'orizzonte a 18 centimetri dal punto di osservazione sopra il livello dell'acqua dovrebbe essere di soli 1,514 metri. Dalla posizione della sua prima ripresa c'è una distanza di 9,04 miglia pari a 14 chilometri 548 metri ad est del ponte Vantage. Con la fotocamera a 18 centimetri e la distanza di 14 chilometri 548 metri dovrebbe esserci il rigonfiamento del globo di 13 metri e 33 centimetri ovvero il nostro obiettivo dovrebbe essere nascosto di ben oltre 13 metri e adesso andiamo a vedere l'evidenza del video. Osservate questa sezione ad est dove inizia il ponte. Ad una prima veduta sembra che non ci sia alcuna curvatura che lo nasconde. E andiamo a vedere se è vero. Basta zoomare un pochino e si vede che è un po' offuscato ma si riesce a vedere la pendenza del terreno che si alza dall'acqua fino al ponte. La bella cosa di questo è che si può confrontare il ponte col secondo video con la stessa sezione del ponte ad una distanza molto meno lontana di 2 chilometri e 600 metri. Si vede la stessa pendenza e se confrontiamo le due immagini non sembra assolutamente che ci sia alcuna curvatura che estruisci la distanza di 14 chilometri e 548 metri quando come minimo dovrebbero nascondersi di oltre 13 metri. Perlomeno secondo le misure di altezza fornite da Google questa intera parte del ponte ad est dovrebbe essere completamente nascosta dalla presunta curvatura del globo. Vedete il ponte con l'altezza massima dalla parte opposta di 22 metri e questa è una veduta da quel punto da sopra il ponte. Ricordate che l'orizzonte non dovrebbe essere oltre 1,514 metri dal punto di osservazione di 18 centimetri della fotocamera? Lo scoglio nel prossimo video si trova ad una distanza di 5 chilometri e 868 metri dalla fotocamera che riprende dalla posizione 1. Se andiamo di grandiera si vede l'orizzonte più lontano, ben oltre 5 chilometri 800 metri. Ancora una volta il globo fallisce. Torniamo alla seconda posizione della fotocamera. In questo clip Observable Reality riprende la diga Wanapum da una distanza di 6,04 miglia pari a 9 chilometri e 720 metri. Qui è come si vede la diga Wanapum a livello della strada. Come si vede la diga non è per niente alta, infatti Google ci dice che è solo 4 metri e 250 centimetri dal livello dell'acqua. Observable Reality abbiamo detto che si trova ad una distanza di 9 chilometri e 720 metri dalla diga. Sempre dalla stessa altezza di osservazione della prima posizione, a 18 centimetri sopra il livello dell'acqua, 5 metri e 280 centimetri dovrebbero trovarsi dietro la presunta curvatura del globo e nessuno dei 4 metri e 250 centimetri della diga dovrebbe emergere. Desidero aggiungere un ulteriore punto riguardo alla distanza dell'orizzonte. Ricordate che la distanza massima dell'orizzonte non può essere oltre 1 chilometro e 514 metri? Qui il cameraman sta osservando il ponte Vantage da una distanza di 2 chilometri e 600 metri. La domanda è come mai si vede ben oltre a quella che dovrebbe essere la distanza dell'orizzonte sul globo. Inoltre l'orizzonte va ben oltre la distanza della diga che è lontana oltre 9 chilometri e 700 metri. Pensate che il rigonfiamento che dovrebbe essere davanti al ponte possa semplicemente sparire così lasciando il ponte inalterato? Non credo alle cose senza senso. Voi invece sì? Credete a quello che vi racconta il sistema? Potrei finire qui il video ma ho trovato un altro clip interessante di Observable Reality giusto per rompere le palle della palla oggi. Observable Reality si trovava sempre alla stessa altezza di 18 centimetri con la sua fotocamera e dovete sapere che non è facile fare le riprese da questa altezza così bassa sull'acqua. Potete vedere le nuove coordinate di questo terzo punto di ripresa e la località è a 5 chilometri e 279 metri di distanza dal ponte Vantage e abbiamo già calcolato che la distanza dell'orizzonte è di meglio dovrebbe essere di 1 chilometro e 514 metri. Inoltre come potete vedere Observable Reality dallo stesso punto si trova ad una distanza di 12 chilometri 408 metri dalla diga Wanapum. Ricordate che l'altezza della diga è di soli 4 metri 250 centimetri? All'altezza di 18 centimetri ad una distanza di 12 chilometri e 408 metri l'orizzonte sul modello del globo rimane sempre alla massima distanza di 1 chilometro 514 metri. Ma la parte nascosta della diga Wanapum da questa distanza è pari a 9 metri 312 centimetri se il modello del globo è meglio se fosse corretto e l'intera diga Wanapum dovrebbe trovarsi ben nascosta dietro la presunta curvatura che ci riportano. Dovrebbe esserci una enorme parete di acqua di fronte ad essa? Ecco le prove. Eccolo la il ponte Vantage. Ad una distanza di 5 chilometri 279 metri dalla posizione della fotocamera l'orizzonte dovrebbe essere solo un chilometro e 514 metri secondo il globo ma l'orizzonte si vede chiaramente a diversi chilometri oltre i 5 chilometri e 279 metri. Questo è un fallimento enorme per il modello del globo a meno che non crediate ai maghi che fanno sparire completamente l'inarcamento lasciandoci vedere oltre il ponte. Non crederete a questo? Ah no! Voi ancora credete ai ricercatori universitari che lavorando sulle teorie quantistiche affermano che molti indizi creano una prova e negano la terra piana. Ma molte prove fatte sulle cose vere. Cosa creano signori teorici delle mie palle? In più si può vedere la diga Wanapum ad una distanza di 12 chilometri 408 metri che alta solo 4 metri 250 centimetri mentre secondo i calcoli del globo dovrebbe trovarsi nascosta dietro a 9 metri 312 centimetri. La diga non è nascosta. Mi chiedo come fate voi sciettici indipendenti ad avere ancora tutti questi dubbi dopo tutte queste prove travolgenti quando sempre voi personalmente potete raccogliere tutte queste prove? Non dovete fidarvi nemmeno di me. Uscite e fate voi stessi le prove, voi stesse. Ringrazio Observable Reality per queste prove inconfutabili. Non avete bisogno di calcolatori, coordinate GPS o app varie. Basta osservare i filmati. Non penso sia così difficile da capire. Potete vedere con i vostri propri occhi. L'acqua non ha e non fa nessuna curvatura e potete vedere benissimo le imbarcazioni distanti ben oltre alla distanza dell'orizzonte richiesta dal modello del globo. Non so cosa ci porterà il futuro ma esorto tutti quanti e tutte quante a lottare per la verità così che tutti insieme possiamo rompere questa palla spirituale e mentale che ha schiavizzato l'umanità ormai da troppo tempo. Grazie come sempre.